1 Benvenuti ragazzi sono Sekmet ed eccoci qui in questo nuovo video nella modalità zombie in una mappa di Rise A fare l'MP5 Challenge con questo mio amico, Electro Zombie Che vi spiegherà le regole Bella Ma lui mangia panini perchè non interessa a niente Lui vuole mangiare panini quindi mangi i panini Perchè lui è un paninofalo Allora Vai Vai Posso finire il panino e poi iniziamo Iniziamo comunque a prevedere cosa bisogna fare Si due tacche che bello Vai spiega comincia a spiegare No Guardate quanto è impegnato a mangiare il panino Guardate pure mentre scende Oddio 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 Io non le so alle regole quindi Vai Già l'ho presa oh Dai che ce la puoi fare Dai ficcalo tutto in bocca Challenge Dai ti svegli Ah se lui Ok vai Oh dai Tirchio Elettro Zombie Tirchio Lui è Tirchio Mi sa che saltare è portafortunella Vabbè ce lo giriamo Oddio sono due Vai Elettro Comunque potresti anche spiegare Non è che C'è Spiegherà dopo Comunque mi sa che si capisce vedendoci no Ah poi non si possono uccidere zombie nell'area di Lui che vi dirà Boh non lo so Una roba del genere ha detto Eh non si possono uccidere zombie nel tragitto mentre si arriva alla distanza di zombie P5 Diciamo che questi punti ci servono solo per prendere Lle P5 senza rapire forte ve l'abbiamo anche fatta vedere Cioè con l'ascensore Ve venite qua 6.000 punti per accedere alla forza della corrente Eccoci qua vai Ora entrano i zombie e ci ammazzano scommetti Ti puoi anche muovere eh Non è un'opinione Vedi vedi se dobbiamo morire al primo round guarda un po' Ti giuro che se moriamo Attenza Elettro Big pro player Lui con il panino in bocca Sì ce la fa Ce la fa No 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 Sì Sì vai Elettro Ci sono gli zombie aspetta Ora vale ucciderli no? No No? Mi dispiace Elettro Ti ho sempre amato Dai su finisco il round Qua vale ucciderli? Oì Elettro Oddio Poverino Mi dispiace per te Che c'è ma? Vai Posso ucciderli qua? Ok Ragazzi si possono ucciderli tipo solo in queste due Tre stanze no? Tipo una due Tre Giusto? Esatto E quattro pure questa no? Ok perfetto Adesso finisco il round perché Elettro è morto in un modo orrendo ma Non fa niente Continuiamo Vai Oddio perché sei tutto verdofilo Hai scorreggiato Era un tranello per farci cascaremo Perché io Sono morto a round 1 Spiacciato là sopra Ho il gioco permanente Mentre io Ci l'ho fatto apposta Che nabbo E chi l'ha capito? Guardalo un po' Mamma mia che nabbo Brutto un abuso Brutto un abuso Non si fa così Oh raga Io apro il gioco permanente fino a round 15 E invece che sono pro Quindi non ce l'ho Va bene Oh Ecco Così ti imparo Oh raga Adesso io non vorrei Il mio piano era far uscire Ma non me Perché se fossi uscito io Eh 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 Se fossi uscito io Emma sarebbe rimasta da dentro Se sarebbe peccato il gioco permanente Quindi tutta la cosa è più facile Invece Non si è capito niente Giusto così per dircelo Ma sì Chi se ne frega Infatti Vabbò mi sono fatto uccidere la porta lì Capito? Molti penseranno Sì sì Dici così Bambino Sto cazzo Io sono rimasto morto lì Perché a zimini E poi non posso giocare con un panino in bocca Ma in bocca In bagno Sporcaccione Sì Sì Vabbè certo Sì Sì Adesso Viene il mio oggetto permanente 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 Passa l'applicazione Delle ruote Vai Spiegazione Del rutto Dai l'MP5 Quattro Potrete uscire con Solo con questa Con questa arma Neanche con la pistola Vabbò no Quella vale Ok Con questa arma Con questa arma Si intende Cioè se partono uno o due colpi di bambino Tu non stai facendo video Quindi vedono solo a me Giusto per dirtela Tra vedere l'arma Bene Comunque Con questa arma Al muro Eccola Eccola qua Ad ottenere con le scimmiotte Breve trailer Su come si Ottengono Le scimmiotte No Le scimmiotte Non si ottengono Quindi Io l'ho vista Io l'ho vista giocare Da Steve Da Alcuni francesini Da ZP Perché sono francesini Sì Ho detto Sì Ma voleva fare un video Ebbè Ebbè Stai Rob Sì In effetti Stufante Vai Quanto è il record italiano? Munizioni eh No Ma questa è una challenge divertente Un po' di Ah ok Va bene Allora poi In questa challenge Vi consiglio Di usare la sensibilità 14 O meglio detto Ora me la metto va Perché I love Scream shake Visto che Doverete muovere lo schermo Per fare un seco Bu Uuuuh Le scimmette Ci otteniamo Un fottuto perk Lo so io una volta Ah ok Non vale Ravagangiare Che vuol dire Ragavangiare? Non vuol dire niente Ragavangiare Mentre mangiare Ah Ah giusto Buona teoria Ah le granate Le granate valgono Per uccidere Ne lancio una Allora eh Io te l'ho rilanciata Allora sei un genius Aia Aia Ecco Lui che muore E' tutto calcolato Eppure questo è per il giag permanente Capito? Ah è per il giag permanente Sì sì Infatti Ora muore E' tutto per il giag permanente Ragazzi Sì sì Ah e se Emma mi sta praticamente Chiudendo in questa stanza Tutto calcolato Che non lo vedete? No Emma Vai passa Passa Eh che cazzo Passa E rianimami Io di rianimarlo Ma tu ci riesci Perché sei troppo Capito? 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 Bravo Così ti voglio Vedi adesso Ho il giag permanente Tutto calcolato Ok Ma lui è pro quindi può Oppure se dovete rianimare Con le scimezze Andate in fondo E poi andate subito da lui Fate un bello sprint Merda Vai su Accoltarla pure tu Se no faccio tutto io Che hai sparato? No Ah no Ho sentito Delle belle parole Fu riuscire dalla tua bocca Raga Altra cosa Parate Gatti di scimiotelli Guardale Che nobbo L'ha fatta apposta No Dai scherzo L'ho fatto per sbaglio Raga Cioè bevo il dito Se mi scivolava E quindi Dai Mamma mia È sempre un noob No Non otterrete una bella vita No Non otterrete Noi non la otterremo Perché tu sei un brutto nabbo Che va a sparare Eh vabbò Dai eh Ma lo sappiamo che a te ti piace divertirti No Raga Io vi dico una cosa Lo sbaglio è umano Non sbaglio è disumano Pace Ti è sbagliato E cercate Guardalo Vabbè a sto punto non faccio più l'MP5 Challenge No È l'MP5 Challenge Io non ho mica paga panciato Ah già è vero L'MP5 non vale per lanciarlo Eh 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 Ragazzi su questo non ci potete dire niente Quindi Comunque non varrebbe comunque Vorrei dirtelo Raga però voi mi dovete dire una cosa Dimmi se non ditemi se non vi viene voglia Quando il paca panci vi arriva lì Di paca panciare ragazzi Vabbè vi sarrà per il cazzo Vabbè vi sarrà per il cazzo Vabbè vi sarrà per il cazzo Dai scherzo Però eh ma te la paca panci anche te Sì le mustang e se li va Sì le mustang si Le mustang anghte Le mustang Sì vai Evviva la parola mustang Da quando sono diventate M1911? E da quando mi è stata massa Appunto Oh Attento da dietro Basta Non cantare l'uovo l'uovo yeah Quale è il fake di stamattina? No Dai lo devo dire Quale è il fake? Becille perché sto a shot L'xbox accesa di notte per fare un testo E sono morto subito alla mattina dopo due round Stessa regola che seguo sull'autobus Solo che io detesto Devo dirlo cavolo eh Il mio xbox ha patito di sera Dai ragazzi ci mancano solo più tre round round delle scimpiantelle Bene Perché le prossime sono al decimo E' entrato pure mio padre poco fa quindi Vai a pacca panciare Emma Emma è appena salito Ce la fai Ce la fai Emma Non ci casco Non ti preoccupare E' ma 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 Raga Qual'è il bello di questa challenge? Watt escape E' ma E' ma E' ma Vai Sono morto subito con le escape Io la faccio lui no Comunque Mi ne ho fatto uno e poi sono morto quindi non fa niente E' ma E' ma E' ma E' ma Ma tu hai il giag permanente? Tutto una boia no No io non me lo sono fatto in verità Quella era una scusa Comunque la challenge può riprendere E' ma Non mi devi chiudere E io invece si ti voglio chiudere Vai Uccidi con le tue mastanghe sulli No Non me le sono fatte per uccidere Ah per bellezza Sì Ah Chiama M5 challenge Come c'ho la Hai dire Hai fellato No sei un nabbo Sei un nabbo Oh raga volevo solo farla apposta Sei un nabbo Sei un nabbo Sei un nabbo Sei un nabbo Raga hai visto era tutto calcolato Farlo morire per poi farlo morire subito E ditemi che non sono un bro Eh ma Non mi neanche visto la mia visuale ti rendi conto? Tanto schippato me lo dico in round Sì tutto Eh era già tutto calcolato Non mi pericolare Ehm I love screen shake La smettiti di lovare gli skin shake Perché corrono così tanto che hanno bevuto? Ema c'è il puka punch Ema Uccidimi di te così non muoge Ema Ehm 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 Dai Dai Io non ti ascolto più Adesso lo rianimarò Non è nel mio interesse tra l'altro Sì Ehm uvududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud bello sapete qual è? che voi pensavate questo game over ma io sono più furbo adesso vai su non sparare ti giro che ti ammazzo se spari mi sa che le massanghe sali valgono perchè sono tipo telepranate stiamo girando nello stesso boom Emma con le scimmiette basta fare così vieni portameli vieni qua corri in avanti corri in avanti basta non sparare con le massanghe vale Emma non sparare ma che stai a dire con le massanghe non vale vale scommettiamo scommettiamo va bene io non scommetto niente però va bene adesso continua a sgossare e vediamo se vale o non vale ah ho capito perchè li hai centrati perfettamente ecco perchè hai buttato un hub ecco ragazzi adesso non sparare da terra ho già sparato mi dispiace eh ma ahahah ehi ma hai sparato o no? si ho sparato veramente? hai due colpi si vedi ok non capisco perchè sto facendo tutte queste a terra non muoio mai così tante volte dai o la finisci di trollarmi raga adesso aspettate vi farò una rianimazione a pendolo guardate non esistono le rianimazioni a pendolo non esistono le rianimazioni a pendolo mamma mia ragazzi aspettate cioè siete suoi scritti no miei aspettate aspetta eh ma aspetta che queste rimanze in questa nostra seconda eh ma paka pancia hai paka panciato? si allora a parte questa cosa molto eh allora ragazzi noi la cosa divertente è che non abbiamo le bibite e non le vogliamo prendere perchè stiamo trollando però questa è tutta una trollazione trollellata in una in una paka punch challenge on F2 nel senso noi possiamo paka panciare ma non possiamo avere tutte il tutto rende e tutto vi dico però siccome io mi ero dimenticato in un gioco ma niente mi sono suicidato in inizio cioè è tutto un troll intanto le persone escono dal gruppo è è tutto sul troll6 sof piripiri p recur pio arriviamo fino a che non mori e mi ci chiamo eh ragazzi insieme a un'esercizio cazzo hai visto vedere che io non sono così cretino a rianimare, guardatemi io lo riesco a rianimare perfettamente se siete voi che mi credete certo puro puro ma farà scomento che sei rosso no farà no io ho finito le repensioni cioè tu sprechi le masse anche così e certo lo so ora ragazzi viva gli hightround paraparabam 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 vai apposta sei un brutto nap dai su che prima abbiamo fatto un escape sto morendo troppo volte è una dolore questa non riesco a capire come mai mi sta diventando una dolore anche se 11 round è accettabile comunque no a parte le strontate noi il nostro obiettivo era farne 15 e quindi era ora moriamo raga questa è una scelta non è che abbiamo sbagliato a sparare i cosi perchè si vede perfetta no non sia tutto calcolato lo volete capire tutto calcolato anche che adesso noi ci andremo a chiudere è calcolato cioè non è che lo stiamo si appunto per fottuto sbaglio tutto si appunto si tutto calcolato no? che tipo che io adesso cadrò dal palazzo o merda siamo arrivati ragazzi al round 11 e questo è il mio video non il tuo quindi stati zitto zitto mettete un bell'inlace iscrivetevi commentate